Sioslok, ciao a tutti. A voi la quarantena, all'Islami rispetto del Ramadan. Condividete il video con chiunque conosciate e con chi ancora nega l'islamizzazione dell'Europa, del vecchio continente. Mentre la Pasqua quest'anno non si è potuta festeggiare in chiesa, come sappiamo, per le restrizioni da Covid, i musulmani hanno ricevuto permessi unici nel mese del digiuno sacro del Ramadan in Europa. Questo digiuno, questo mese, ha ricevuto molta attenzione ai politici europei quest'anno, sin dal suo inizio il 23 aprile. Come dice questo articolo in svedese, Angela Merkel, la CDU, quindi Cristiano Democratici e altri sei partiti politici tedeschi hanno espresso, sentite bene, solidarietà ai musulmani in quarantena. SPD e Verdi hanno accolto con favore la proposta di concedere diritti speciali alle moschee in Germania. Senza interpellare tutti i residenti, le moschee possono trasmettere pubblicamente all'aperto le preghiere in arabo. Vediamo anche il tweet di quello che succede. Questo è per la prima richiamo alla preghiera, il primo Adan. Vedete con gli altoparlanti e dentro la moschea con i microfoni l'imam che prega. Andiamo avanti. Un esponente della CDU, Christophe de Vries, dice che siamo in una situazione eccezionale in cui le possibilità di professare la loro fede rispetto ai musulmani, protetta dalla nostra Costituzione, sono molto limitate. Ancora avanti, come dice quest'altro articolo in svedese, in Gran Bretagna la BBC Radio inizia a trasmettere le preghiere in arabo, versetti del Corano e citazioni del profeta Maometto. Sentite, perché non succede la stessa cosa, lo stesso trattamento per gli ebrei e gli hindù in Europa? Il capo della radio locale BBC, di nome Chris Burns, si è detto orgoglioso dell'iniziativa solidale volta all'integrazione della comunità musulmana nella società inglese. Ritornando al primo articolo, situazione simile in Danimarca. Nella seconda città del paese per numero di abitanti, a Arhus, la moschea ha ricevuto, nonostante un primo no del sindaco Jakob Bounskart, il permesso di trasmettere con gli altoparlanti le preghiere nell'etere, in giro per la città, nell'aria. E vediamo il secondo tweet, video. Questa è la Danimarca. Vedete il Muezzin, credo, Muezzin che canta, che richiama la preghiera per il Ramadan. E andando avanti, si vede che in un campetto da calcio, il Muezzin, almeno quello che penso, credo sia il Muezzin, lascia la parola, lascia il microfono all'Imam per la preghiera. Tutto questo in arabo in Danimarca. Comunque in tutto l'ovest europeo, politici, soprattutto liberali, soprattutto di sinistra, hanno espresso supporto al Ramadan. Il leader dei Libdem, quindi liberal democratici inglesi, ha iniziato il suo primo Ramadan, pensate. E un consigliere dello stesso partito è finito nella bufera per aver twittato la sua colazione, come vedete nella foto, uova e bacon, quindi pancetta di maiale. Liberali, pensate, riflettete un attimo, liberali attaccati da altri liberali per la loro propaganda, per la loro stessa propaganda fatta male. Meraviglioso. Intanto in Austria, Francia, Spagna hanno avuto la stessa accondiscendenza ai governi politici locali. Addirittura in Spagna dei musulmani, dalla cima di una cattedrale cristiana, hanno chiamato alla preghiera nonostante il lockdown dei giorni scorsi. L'Italia segue la linea di questi paesi nord-occidentali europei. Se gli italiani non abbandonano lo sguardo miope ideologico verso l'Islam, saranno catapultati nella Germania di oggi, nella Svezia di oggi, nella Danimarca di oggi. E cari liberali che oggi attaccate l'Ungheria e il gruppo di Vicegrad per islamofobia, razzismo, intolleranza. Sappiate che i vostri pseudodiritti verso ogni minoranza immaginabile, con una comunità maggioranza musulmana in futuro, srichiorerebbero, vacillerebbero immediatamente, perché la società aperta non ha futuro. La società di Soros, la società liquida, come volete chiamarla, vi slate.